Vigilia, Giro delle Fiandre, Ronde von Flandre in dizione fiamminga, una dizione che trasmette ancora più enfasi e più fascino. Ovviamente pensando a questa corsa si pensa ai grandi faticatori, ai grandi campioni, ai grandi passisti che hanno trionfato nella classica delle pietre e dei muri. C'è stato però un campione, un campione poliedrico che si è distinto in varie discipline e che grazie alla sua classe è riuscito a far sua in un palmaresse davvero di tutto prestigio anche questa classica così tanto ambita nel mondo professionistico che nel Belgio rappresenta un evento importantissimo nell'arco dell'anno. Allora si può pensare magari Andrea Tafi, si può pensare ad avere ospite Bortolami, si può pensare a Ballan e invece no. Oggi abbiamo niente po' di meno che Gianni Bugno, noi lo ringraziamo di essere con noi. Buonasera Gianni. Buonasera a tutti voi. Allora Gianni, che dire, quando si parla di Gianni Bugno vengono in mente i due mondiali, il Giro d'Italia, tanti successi anche nelle corse in linea. Però ricordo che nel 1994 la classica fiamminga cadeva il giorno di Pasqua. Insomma Gianni aveva la gamba buona, il suo nome si faceva. Il nome di Gianni si faceva sempre a ogni vigilia, però magari veniva più così, più lecito pensarlo alle classiche dei muri. Invece quel giorno ti superasti, anche se ci facesti vivere davvero un'emozione non da poco. Prego Gianni, grazie ancora per essere con noi. Grazie a voi dell'invito, grazie a voi per l'opportunità di poter ricordare una corsa che è un monumento storico per il ciclismo. Una corsa che sicuramente non era adatta a me, ma che in quella giornata sono riuscito a conquistare. Conquistare naturalmente con un patina d'animo finale, con quella volata in cui stavo per perdere contro io al museo, che era sicuramente l'avversario più ostico e che era anche molto veloce. Ho sbagliato ad alzare le mani poco prima del traguardo, il traguardo era leggermente in salita, con un po' di velo contro ed era facile ralentare. E stavo riuscendo appunto in quella frangente a battere. Fortuna che non ci è riuscito e che sono riuscito a conquistare questo Giro delle Fiande, che come ho detto l'ho fatto pochissime volte, due o tre volte forse. Però diciamola tutta, l'ha spiegato e lo vorrei ancora sottolineare. Ovviamente Museo non era certo un corridore da sottovalutare, però per quanto legittimo il suo recupero te vincevi tranquillamente. Forse ti avrebbe fregato l'euforia più che la rimonta di Museo. No, sì, fuori di aver vinto, è stato alle mani troppo presto, ma lo so. Diciamo che Museo non è un corridore da sottovalutare, non l'ho mai sottovalutato, oltre che essere stato un grande frontione, per me è stato anche un grande amico, perché poi abbiamo corso in squadra insieme negli ultimi due anni alla MAPEI. Diciamo che poi era uno specialista di quelle corse, poi c'era con noi, c'erano anche Cmi e le ballerini, che diciamo che erano in quel periodo nei mostri sacchi di quel tipo di corse. Allora, per raccontarla tutta Gianni, vogliamo andare anche un po' oltre i concetti tecnici. Hai parlato di amicizia con Museo e credo di non turbare la privacy di nessuno. se vado a raccontare che proprio in virtù di tale amicizia ha chiamato suo figlio. Sì, con mio nome, ma questo prima del fiare però. Certo, questo però dimostra la vostra profonda amicizia, anche se poi... Profonda amicizia tuttora, però Gianni l'aveva chiamato prima di questo fiare, magari dopo non l'avrei più chiamato Gianni. Ottima ironia. Senti Gianni, ma ha detto che non è corso spesso il fiandre, ma a te piaceva come corsa? O preferivi effettivamente la Liegi o magari l'Amstel o magari la Frecciavallona? Ma come corsa, quelle che più mi piacevano e mi sedicevano, la Liegi e l'Amstel. L'Amstel diciamo che non era una corsa come oggi, era una corsa che diciamo agli esordi e poi è diventata una delle grandi classiche del nord. A me piaceva molto di più la Liegi, sono arrivato secondo sia alla Liegi che all'Amstel, beffato lì anche. L'isli è stato proprio beffato, comunque però sono arrivato secondo e quando si perde non ci sono né sei né ma. Vuol dire che sono andati più forti gli altri. Il fiandre non era una corsa, sì, era una corsa ambita che mi piaceva, però non era una corsa su cui mi ispirava. Dicevo che era una corsa bellissima ma che non avrei mai pensato di vincere. Però quell'anno andavi particolarmente forte in quel momento. Ricordo bene, avevi trascorso se non sbaglio tre anni con la Gatorade e quell'anno avevi debuttato in maglia del Team Polti. Sì, poi abbiamo fatto praticamente un mese in Belgio facendo tutte le classiche lavorando molto sul pavè così ero riuscito anche a entrare nell'ottica di quelle cose perché sono corse abbastanza complesse per noi che non le viviamo quotidianamente. Quindi entrare in quell'ottica di corso vorrebbe dire andare a correre lì per un mese fare come fare un periodo di scuola per il cantato e fare un mese lavorando su ritmi e percorsi simili a quelli appunto del Fiandre per poi essere competitivi. Poi ci voleva anche una grossa condizione quella che io poi avevo in quel periodo perché avevo una ottima condizione mi ero adattato al clima e al tipo di percorso e dopo mi è venuto tutto più facile al giro delle Fiandre anche perché lì il clima cambia da un momento all'altro si può partire con la neve e arrivare col sole possono essere giornate caldissime o giornate piovose e fredde essendo una regione esposta al Belgio una regione esposta al mare atlantico quindi a tutte le correnti che possono arrivare dall'atlantico quindi non è facile correre lì per sapersi adattare. Ripercorriamo velocemente l'anno 1994 perché quella primavera fu veramente un anno storico per il ciclismo perché un mese dopo dal suo successo un mese e mezzo dopo esplosero ma già in quella primavera esplose un Berzin veramente supersonico e poi fu il Giro d'Italia dell'impresa di Pantani sul Mortirolo quindi Berzin, Pantani Indurain per la prima volta delle sue tre partecipazioni al Giro d'Italia trovò davvero difficoltà infatti dovete accontentarsi del podio fu un anno, dico, di transizione ma transizione positiva sì, fu un anno di transizione sì, un passaggio di consegne diciamo stava nascendo una nuova generazione noi eravamo praticamente la vecchia generazione che stava cambiando e quindi era giusto così come lo è in questo momento stiamo vivendo un altro cambio generazionale in cui ci sono molti giovani che stanno dimostrando il loro vero valore ecco ti volevo qui ti volevo Gianni e che valore? cosa puoi dirci? di Van Der Poel di Van Aert di Van Der Poel di Van Der Poel di Roglic che è praticamente una giovane però di Poga di Bernardo tutti i corridori giovani che hanno vinto grandi corse e che dovranno dimostrare col tempo il loro vero valore sicuramente sono una nuova generazione una generazione che non ha 25 anni ma ne ha molti meno ne ha 20, 21 e quindi hanno tutto il futuro davanti l'unico corridore che rimane in quella fascia diciamo in quella fascia che ancora non è tanto distante anzi sono tutti oltre il 30 e ancora Sagan che secondo me è ancora uno degli uomini favoriti domani per la gara delle Fiandre perché è un corridore che se è in condizioni diventa pericoloso per tutti La classe da vendere l'abbiamo visto in crescita al Catalunia Lui sicuramente vorrà rifarsi di una stagione che non è stata sicuramente delle migliori tra un anno particolare quindi sicuramente se lui ha la condizione domani sarà lì a lottare con Van Aert Van Der Poel e tutti gli altri però ecco abbiamo visto domenica brillanti anche uomini del nostro ciclismo purtroppo poi c'è stata la caduta di Viviani di Trentin ieri abbiamo intervistato Nizio dal pericchio motivato i nostri giovani sono i nostri atleti sicuramente hanno dimostrato di avere la condizione di poter ambire a fare un'ottima corsa dobbiamo giocare le proprie carte approfittando della rivalità di questi grandi corridori cercando di sfruttare al meglio il lavoro delle loro squadre e inserirsi nel momento opportuno in quella che sarà poi la fuga definitiva noi abbiamo un ottimo patrimonio il problema che lo disperdiamo lasciandolo andare nelle squadre estere e lì purtroppo li perdiamo perché magari fanno degli anni in cui magari devono aiutare i corridori di squadre staliere quindi magari perdono la loro cattivere nel voler vincere però speriamo che adesso questo nostro ciclismo dopo questo periodo che spero passi presto possa rinascere e mettere in luce i corridori che noi abbiamo perché sicuramente come numero siamo sicuramente superiori agli altri anche se purtroppo magari i risultati non sono quelli che ci aspettiamo ecco volevo arrivare qui ti ruberò ancora pochi minuti Gianni diciamo ai tempi tuoi di Chiappucci di Museo ma anche gli anni successivi era ancora un ciclismo parlo a livello di budget a livello finanziario dal volto umano passati in un'ottima squadra prima l'Atala poi lasciato Dax ripeto ottime squadre ma allora non servivano i budget di oggi poi quando si accorsero anche i nomi più blasonati le aziende più blasonate del patrimonio bugno del personaggio ecco affacciarsi la Gatorade ma ripeto con budget inavvicinabili a quelli di oggi oggi il nostro problema è proprio che insomma i nostri giovani devono emigrare e per fortuna insieme a loro emigrano anche le maestranze i team manager i direttori sportivi che insomma offrono il loro know-how e fanno tesoro cioè poi questa complicità anche nazionale nasce però te pensi che sia questo il problema più grosso che hanno i nostri giovani ad emergere? No noi abbiamo un ottimo patrimonio di giovani dobbiamo correre molto di più di giovani in questo in questo in questo periodo perché sicuramente con il problema della pandemia abbiamo perso magari tanti ciclissimi ma anche tanti sportivi bisogna ritrovare le nuove generazioni e bisogna fare in modo che ci sia qualcuno che aiuti il ciclismo a trovare grandi sponsor per poi creare una grande squadra o delle grandi squadre che posso competere con le squadre le 19 squadre del Pro Tour sono tutte perlomeno sono quasi tutte straniere a parte la track sega fra però è sempre americana non è italiana quindi gestita tutta da italiani le due maestranze nostre sono tutte all'estero quindi ci sono nazioni come la Francia che aiutano le squadre a trovare grandi sponsor per poter poi partecipare delle corse come Tour de France si ci vorrebbe un aiuto da parte delle forze governative per cercare di sviluppare di più quello che è il nostro prodotto per poi esportarlo all'estero perché il ciclismo è un modo è uno dei modi migliori per vendere il nome di uno sponsor all'estero facendo dello sport io provo a lanciare un assist in Francia c'è la Francaise de Gé che è una lotteria nazionale in Belgio c'è la lotto qualche anno fa c'era anche a livello olandese la lotto olandese insomma se le forze governative come di Cide volessero guardare con un occhio particolare di simpatia al ciclismo che poi è anche promozione del territorio va bene che orecchie per intendere intenda invece l'ultima domanda e te la rivolgo in qualità di presidente dell'associazione dei ciclisti professionisti dal primo aprile non è più lecito assumere certe posizioni in bicicletta il tuo punto di vista a riguardo Gianni io sono a favore di questo divieto spesso il mio parere è l'ultimo consiglio internazionale che c'è stato è una posizione che può essere assunta da un professionista che lo fa di mestiere ma sicuramente non è un bel esempio per chi pratica ciclismo a livello amatoriale in particolar modo per i giovani se si capita se si capita se dove succede quando mi è successo non è capitato di andare a vedere le corse di giovani di minori così vedo alcuni corridori che si comportano come dei professionisti non assumendo la posizione di scelta perché magari non ho occasione di vederlo ma mi capita di vedere i corridori junior che appoggiano gli avambracci sopra il manubrio con dei grossi rischi perché se cadono fanno cadere i corridori che ci sono dietro quindi il ciclismo professionistico è una vetrina i nostri corridori professionisti sono dei idoli da imitare e quindi il divieto di questa posizione è per evitare che qualcuno eviti di imolare di imolare di imitare i professionisti in posizioni che potrebbero essere dannose per loro per qualche caduto e poi perché sono posizioni che sicuramente la bicicletta può anche non supportare perché le biciclette sono fatte per avere l'appoggio su tre punti e poi anche perché questa posizione viene assunta da alcuni corridori in gruppo quindi per me è una posizione non regolare che va bandita anche se ripeto i professionisti sono in grado di poterlo fare ma non sono un buon esempio per chi riguarda in televisione ti sei sempre fatto apprezzare per la sincerità e la schiettezza raccontaci però nel mondo professionistico i primatori come hanno preso questa decisione sinceramente quale umore hai sentito e percepito hanno fatto un referendum ho chiesto abbiamo domandato ci sono state poche risposte poi quando è diventata diciamo legge dal primo aprile sicuramente sono nate subito delle contestazioni già da febbraio marzo ma questo non non cambia la situazione perché l'UCCI la federazione internazionale ciclismo ha deciso di introdurre queste norme al fine di evitare appunto ripercussioni peggiori se dovesse succedere qualcosa nel futuro quindi è stato un modo di prevenire piuttosto che curare poi allora Gianni sarà la seconda Pasqua blindata purtroppo per tutti noi ma sarà resa credo più dolce dall'attesa per la ronde e questa vigilia è stata alietata dalla tua competenza dalla tua saggezza e veramente grazie per essere stato con noi buona Pasqua Gianni grazie buona Pasqua a tutti voi